salve a tutti un saluto da macinator siamo inizio primavera e abbiamo voluto dedicare questa battuta funghi nel mondo di fungo magia alla ricerca di un fungo che ancora non vi ho mai presentato questo fungo qui si tratta della verpa la verpa è un fungo commestibile ma con molta attenzione perché ha un livello di tossicità leggermente un po più elevato degli altri fa parte della famiglia delle morchellacee e le possiamo distinguere dalla dalla morchella classica l'euscolenta da un fattore qui tanto ne ho presa già qualcuna vediamo tanto se guardiamo la mitra la mitra praticamente si assomiglia molto però a quella della morchella però cosa la morchella va a chiudersi direttamente sul gambo mentre questa se potete vedere è collegata come un classico fungo no collegata al gambo con un suo cappello e il suo gambo invece di essere un tutt'uno il fungo praticamente ve ne prendo un'altra staccato questo è il gambo e cavo e cavo all'interno leggermente farinoso ha questa colorazione del gambo color avorio e la parte soprastante della mitra è un color camoscio chiaramente le colorazioni possono anche variare in base diciamo allo spot dove andremo a ricercarle vi faccio vedere intanto qualche raccolta tanto vi spiegherò altre 23 dati tecnici per insediare diciamo questo nostro corpo corpo farò ok e tanto abbiamo trovato altri corpi fruttiferi vi faccio vedere praticamente come si trovano tanto non li andiamo insediare in boschi in un ambiente dove c'è molto frassino e rispetto alla spugnola che invece li troviamo più che altro vicino comunque ai letti dei scippi ecco qua un attimino la nostra verba boemica questa è una verba boemica sono sono come consistenza praticamente paragonabile a quella di un cantarellus di un galletto sono funghi delicati chiaramente quindi vanno staccati con molta delicatezza mettendoli dentro a cesti abbastanza capaci senza sovrapporle troppo proprio per evitare che queste poi si vadino a sfrantumare creare alla fine della giornata una poltiglia anziché un bel carniere di funghi vi faccio vedere altre marchelle che sono qua in maniera camaleontica in mezzo a queste foglie perché le foglie comunque se fate caso sono più o meno dello stesso colore si avvicina molto quindi si nascondono bene bisogna fare una ricerca lenta attenta l'odore è fungino qua c'è un'altra possono raggiungere anche dimensioni importanti possono raggiungere anche dimensioni notevoli ora ve le farò vedere qualcuna magari un pochino più grande ok andiamo avanti nella battuta ecco qui un altro bell'esemplare di verba miniamolo qua ce n'è un'altra bellissima guardate come si nascondono sotto le foglie guardate ecco qua sono stupende sono stupende qui ce ne sono delle altre bellissima questa è un gambo lunghissimo mi sembra che siamo caduti proprio in un momento ricco proprio abbiamo azzeccato la giornata ok continuiamo con la battuta vediamo un pochino ecco qua che bel quadretto grazie a tutti guardate qua morchellando 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 anzi la cosa giusta sarebbe verbando verpando guardate là che ce n'è un altro la sotto quei rami questa la appoggiamo qui oh spettacolo bisogna tirarle via in maniera molto delicata dunque rischiamo che ci rimanga il cappello in mano ecco qui un'altra verpa eccola che bella che è ricordiamoci sempre che la verpa è un fungo che normalmente compare prima delle nostre sorelline morchelle sia le oscolenta che la conica c'è da dire che prediligono entrambi quasi gli stessi terreni quindi stesso habitat questo tenetelo sempre ben presente perché è importantissimo se vogliamo andare alla ricerca di questo fungo così bizzarro e simpatico bene e questo video che ho dedicato a tutti voi non potevo trovare altro spot migliore per concludere questo questo video sulla verpa boemica in che maniera in che maniera mostrandovi una fungaia immensa di verde io non so ma ce ne saranno forse una cinquantina forse anche molte molte di più ce ne disseminate guardate qua in tutte le misure guardate qua guardate qui c'è un'infinità io vi farò vedere subito dopo il raccolto così magari potete godere anche voi di questa magnificenza micologica ok ora mi approvingo a raccoglierle e ci vediamo dopo in chiesura ma guardate qua che meraviglia eccole qui guardate perfette belle anche piccole appena di nascita guardate questa invece è una bella verpona ma che spettacolo che spettacolo meraviglia guardate qui guardate qui qui ce ne sono altre altre lì là ce ne sono altre guardate quante c'è la cena lì continuiamo la raccolta e poi vi faccio vedere qui c'è veramente una fratteria guardate qua uno due tre quattro cinque qui c'è veramente una fratteria guardate qui c'è veramente una fratteria guardate qui c'è veramente la fratteria guardate la quante ora le raccogliamo e poi ve le farò vedere abbiamo un'altra bella verpa ecco qui spettacolo qui c'è un'altra allora una cosa che vi devo dire allora tanto per la preparazione di questo fungo qui è importantissimo che voi quando preparate questo fungo prima di cucinarlo lo fate sbollentare sbollentare far ridare via l'acqua buttate via l'acqua e poi lo potete lo potete cucinare sicuramente diciamo la consistenza sarà quella di qui c'è un'altra ancora di sembra di mangiare della trippa ha un gusto particolare anche se dall'odore all'inizio potrebbe sembrare quasi forte ma in realtà poi diventa delicato una volta cotto sembra di mangiare trippa ma tanta roba tanta roba veramente si sposa bene con dei secondi tipo anche con della carne piatti di secondi di carne o non va a sparire col gusto del pomodoro insomma diciamo che è un fungo che chiaramente non bisogna mangiare ne tanto perché un pochino di tossicità ce l'ha però se ben cotto al suo perché ok andiamo avanti vediamo se vi faccio vedere ancora qualcos'altro benissimo ci troviamo ormai a fine battuta direi che quello che vi ho mostrato oggi è stato più che soddisfacente almeno spero per voi gli amici che mi seguono e cosa volevo dire volevo dire intanto che fare molta attenzione nella raccolta di questo fungo perché è facile che possa essere in qualche maniera confuso con qualche specie che ahimè è velenosa ok non vorrei creare problemi a nessuno considerate sempre che questo queste riprese queste mie note micologiche sono semplicemente note per gli appassionati però fate sempre vedere poi nei centri specializzati nelle asle i vostri funghi quando li avete raccolti mi raccomando perché importantissimo con i funghi ripeto di volta non si scarsa mai e che dire io vi saluto vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi e un saluto a tutti dal macina e dalla macinina a tutti quanti e dal mondo di fungo magia ciao ciao cari a tutti quanti grazie a tutti